La lettera, ripeto, terza lettera di Giovanni, gloria a Dio, aspetto che tutti prendiate la lettera, la Bibbia dice, beato chi legge, è felice, beato chi ascolta. Addio la gloria, l'anziano, cioè Giovanni, al diletto gaio, che io amo nella verità, carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e stia in salute come prospera l'anima tua. Perché mi sono grandemente rallegrato quando sono venuti dei fratelli che hanno reso testimonianza della tua verità, del modo nel quale tu cammini nella verità. Io non ho maggiore allegrezza di questa, udire che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu operi fedelmente in quel che fai a favore dei fratelli che sono, per di più, stranieri. Essi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa e farai bene a provvedere al loro viaggio, in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo, senza prendere alcunché dai pagani. Noi dunque dobbiamo accogliere persone come queste, per essere cooperatori con la verità. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Dio trefe, che cerca di avere il primato fra loro, non ci riceve. Perciò, se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con male parole, e non contento di questo, non soltanto non riceve gli stessi fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli, impedisce di farlo e li caccia fuori dalla Chiesa. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. A Demetrio è resa testimonianza da tutti e dalla verità stessa, e anche noi gli rendiamo testimonianza, e tu sai che la nostra testimonianza è vera. Aveva molte cose da scriverti, ma non voglio scrivertele con inchiostro e penna, ma spero vederti presto, e ci parleremo a voce. La pace sia con te. Gli amici ti salutano, saluta gli amici a uno a uno. Possiamo dare gloria a Dio per la sua parola. Giovanni scrive tre lettere, fanno parte delle lettere encicliche, delle lettere cattoliche universali, insomma, rivolte a tutti. In questo caso quella di Giovanni, la terza Giovanni, è rivolta al diletto al carissimo Gaio, un credente, un cristiano, a cui Giovanni appunto scrive, famoso questo Gaio, il cui nome significa felice, fausto, ecco, questo credente è famoso proprio per la sua rettitudine, per la sua integrità spirituale. Giovanni gli scrive una lettra, gli manda uno scritto, e in questo scritto, in maniera particolare, soffermeremo la nostra attenzione sulla preghiera di Giovanni nei confronti di Gaio, su quello che è il desiderio di Giovanni in favore di questo credente retto, santo, timorato di Dio, che ama il Signore e che serve il Signore. Perché Giovanni nutre dei desideri spirituali in favore di Gaio. Spero di essere chiaro. Giovanni prega Dio perché Gaio, un suo fratello in Cristo, prosperi nelle vie del Signore. Ora, fratelli, credo che tutti noi, di volta in volta che veniamo in chiesa o nelle nostre preghiere private, tutti noi preghiamo perché la nostra vita prosperi al cospetto di Dio. Ma questa sera, apro e chiudo una parentesi, vogliamo pregare perché il fratello che ti sta accanto, la sorella che è vicino a te, possa anch'essa, anch'egli, prosperare nelle vie del Signore. Vogliamo dunque pregare gli uni per gli altri, nutrire dei desideri buoni anche in favore dei fratelli. Vogliamo nutrire propositi spirituali per i nostri fratelli. Vogliamo pregare perché la sorella sia ripiena di Spirito Santo. Vogliamo pregare perché il fratello non cada, ma rimanga fedele al Signore, perché sia potenziato dallo Spirito di Dio. Vogliamo dunque nutrire sentimenti buoni, positivi, spirituali, gli uni verso gli altri. Ma non è di questo che vorrei parlarvi. Nello specifico soffermeremo la nostra attenzione proprio sul termine che Giovanni usa. Giovanni dice a Gaio, carissimo, carissimo, io prego che in ogni cosa, voglio dire, in ogni aspetto della tua vita materiale, che può essere l'aspetto lavorativo, familiare, sociale, tutto quello che riguarda la tua vita, la tua sfera sociale e materiale, così come anche la tua salute fisica, io spero che prosperino come d'altronde già prospera l'anima tua. Quindi Giovanni sta dicendo due cose. La prima, desidera che la vita sociale di Gaio, la vita materiale, tutto ciò che riguarda la sua vita, prosperi nel Signore. D'altronde anche la sua salute fisica. Giovanni vuole che Gaio abbia una buona salute, come d'altronde già prospera l'anima tua. Giovanni individua la priorità. E la priorità, fratelli e sorelle, non è la prosperità materiale, la priorità non è neanche la prosperità fisica, ma la priorità è la prosperità dell'anima. Quanti questa sera insieme a me vogliono chiedere a Dio, Signore, ti preghiamo nel nome di Gesù. Io prego questa sera che la mia anima, la parte spirituale che mi mette in comunione con te, il mio essere stato rigenerato alla grazia di Dio, prosperi. Signore, perché se prospera la mia anima, se prospererà il mio cuore, la mia parte spirituale, allora, Signore, io potrò anche contare sulla tua benedizione in ogni altra sfera della mia vita. Gesù dirà, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in aggiunta. Il termine in questione ha il principale significato proprio di prosperare, riuscire, avendo successo, floridezza, vigore ed efficienza, benessere e prosperità. Giovanni prega che ogni aspetto della vita di Gaio, così come anche l'aspetto fisico, la salute fisica, prosperino come già prospera l'anima sua. Giovanni augura al carissimo Gaio che negli affari della vita e nella sfera fisica ci possa essere la stessa prosperità che d'altronde già Gaio ha nella sua anima, la stessa benedizione che realizzi nel tuo cuore. Dio può farla realizzare in ogni aspetto della tua esistenza. La prosperità dell'anima, fratelli, è il cuore della nostra fede. Vogliamo questa sera chiedere a Dio, Signore, dacci un'anima che prospera. Signore, dacci un'anima, una parte spirituale che possa davvero, davvero rimanere salda nella fede. E anzitutto, fratelli, permettetemi alcune poche considerazioni, e spero siano di edificazione per la vostra vita come lo sono state per la mia. Questa prosperità non può dipendere altro se non dalla mia e dalla vostra comunione con Dio. La prosperità è il risultato di una comunione intima con il Signore. Gaio, io prego che in ogni cosa tu prosperi, come già prospera l'anima tua. Mi sono grandemente rallegrato quando sono venuti dei fratelli che hanno reso testimonianza della tua verità e del modo nel quale tu cammini nella verità. In altre parole, la comunione di Gaio con Cristo produsse una prosperità incredibile, produsse un'anima florida. L'anima di Gaio era serena. L'anima di Gaio era piena di gioia. L'anima di quest'uomo, la parte spirituale di Gaio, era potenziata dallo Spirito di Dio. E questo era il risultato di una profonda comunione con il Signore. Ci vogliamo stringere di più a Dio questa sera. Allora, fratelli, ascoltatemi. Potremmo avere problemi materiali, potremmo addirittura incontrare problemi fisici, ma nel contempo potremmo avere un'anima che prospera alla presenza del Signore. Riconciliati dunque con Dio. Riconciliati dunque con Dio e avrai pace e ti sarà resa la prosperità. Molti vanno dicendo chi ci farà vedere la prosperità? Oh Signore, fa risplendere su di noi il tuo volto e noi vedremo la prosperità. Oh, lo scrittore ai proverbi dice, figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento. Il tuo cuore osservi i miei comandamenti perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Signore, questa sera ci vogliamo stringere di più a Te per avere un'anima prospera, una parte spirituale che davvero gode di buona salute. Fratelli, nonostante i problemi di questo mondo, nonostante i problemi delle nostre famiglie, nonostante i problemi della nostra vita personale, noi questa sera vogliamo puntare su un'anima che prospera. Non importa se stiamo male nel fisico, ciò che importa è che l'anima sta bene. E questa sera, fratelli e sorelle, io voglio dire una cosa. Come stiamo? Come stiamo? Fratelli, com'è lo stato di salute del nostro spirito? A che punto è la nostra fede? La nostra spiritualità? Come stiamo davanti al Signore? Forse qualcuno può dire, beh, non mi manca nulla grazie a Dio. Ok. Ma sai, fisicamente non mi posso lamentare. Ok. Ma la tua anima, il tuo spirito, fratelli, il tuo cuore, come sta questa sera? Come stiamo davanti al Signore? E se questa domanda dovesse porla il Signore a me, a voi, figlio mio, come stai? Allora noi questa sera gli vogliamo dire, Signore, ti preghiamo nel nome di Gesù, tocca la nostra anima più di ogni altra cosa, perché vogliamo godere della presenza del Signore. La nostra comunione con Dio produce una prosperità incredibile, che è appunto la serenità dell'anima, è la pace di Gesù, è la gioia, è la forza di andare avanti nelle vie del Signore. Questa è la prosperità dell'anima. E non abbattersi nelle difficoltà, ma rimanere in piedi dopo aver compiuto tutto il nostro dovere. E questo non significa che non si può piangere. Abbiamo ascoltato la testimonianza della sorella. Nelle lacrime non c'era debolezza, ma c'era fiducia nel Signore. Non sto dicendo che non si può piangere, non sto dicendo che non ci si può abbattere, ma sto dicendo che ci si può comunque aggrappare a Dio. E questa sera lo vogliamo fare con tutto il cuore, perché Dio è degno della nostra fiducia e della nostra fede. Come prospera l'anima tua. E la prosperità dell'anima, questa anima che gode di buona salute, è il risultato di un'anima che si incontra con Gesù. Ma non soltanto. Avete notato, fratelli, che quest'anima che si incontra col Signore prospera e tutto quello che fa prospererà. Egli sarà come un albero piantato, vicini ai ruscelli d'acqua, il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca. Meditalo giorno e notte. Abbi cura di averne attenzione e di metterle in pratica solo allora riuscirai in tutte le tue imprese e solo allora prospererai. Signore prendi la chiesa di Prizzi questa sera e stringila a te nel nome di Gesù per godere di prosperità spirituale. Ma non soltanto il risultato della prosperità che è la nostra comunione con Dio, ma l'effetto della prosperità. La prosperità è come il profumo. Quando l'anima sta bene è un po' come il profumo. Avete presente il profumo? Si può annuire se si vuole. Il profumo. Suppongo che l'abbiate messo. Sì. Dopo che ci si lava. Ma che voi già sapete. Il profumo. Che cos'è il profumo? Non ha bisogno di gridare. Quando passi si sente e lascia una scia incredibile. Vero? Così è anche il cattivo odore. Lascia una scia incredibile. Pure quello. E così è dell'anima che prospera. L'anima che sta bene con Dio sta bene in famiglia. L'anima che sta bene con Dio sta bene al culto. L'anima che sta bene con Dio sta bene nel posto di lavoro. L'anima che sta bene con Dio sta bene nelle relazioni con il mondo e con la chiesa. Perché sta bene. Ed è come un profumo che si rispande. Infatti qui si parla della testimonianza di Gaio. E in più occasioni Giovanni dirà mi sono rallegrato. Grandemente rallegrato. Quando sono venuti alcuni fratelli. Non tu. Non ti sei vantato tu Gaio. Ma sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della tua verità. E alcuni mi hanno parlato anche del modo nel quale tu cammini nella verità. Era una testimonianza incredibile quella di Gaio. Tutto ciò che faceva. Che diceva. Come si comportava. Testimoniava di un'anima che prosperava alla presenza del Signore. Vogliamo pregare questa sera fratelli e sorelle. Perché la nostra anima prosperi della prosperità spirituale. E che dovunque andiamo possiamo lasciare il segno nei cuori e nella mente di quanti ci hanno conosciuto. Ora vi svelo un segreto. Voi sapete che noi aspettiamo Gesù che torna dal cielo. Vero? Ma se Gesù tarda la sua venuta, prima o poi, dobbiamo morire. Avete paura di dirlo? E dobbiamo morire. Ora noi lo sappiamo che cos'è la morte, vero? Per noi. È un passaggio dal tempo all'eternità. Manca un gloria a Dio. Gloria a Dio. Prima la morte ci metteva paura, ansia. Adesso è un passaggio. Sappiamo che ci porta da questo tempo limitato, terribile, alla gloria del Signore. Ma ci avete mai pensato, fratelli, che se Cristo tarda la sua venuta e noi dovessimo passare per la morte, è vero ce ne andremo, lasceremo tutto, ecco perché non vale la pena neanche affannarsi troppo. Ma comunque una cosa la lasceremo. La testimonianza. Il ricordo. Lo lasceremo. Perché se io vi chiedessi, ti ricordi della sorella di Prizzi che è morta cinque anni fa, sette anni fa, dieci anni fa? Io no. Ma voi sì, no? Eh, quel fratello. E voi me l'avete detto qualche volta. Ah, quel fratello non c'è più. Era un caro fratello che amava il Signore. Non c'è più. Ma ha lasciato qualcosa. La testimonianza. A noi sembra che questo non ci interesse. Invece è importante. Perché anche se non ci saremo più, noi vogliamo lasciare la testimonianza di uomini e di donne che hanno temuto il Signore e che avevano un'anima che prosperava. Talmente prospere era l'anima che pur non essendoci più, testimoniano ancora. Signore aiutaci questa sera ad avere un'anima che prospera e che possa rallegrare, benedire, edificare, ristorare quanti ci circondano. Quest'anima che prospere, infine, non è una prosperità fine a se stessa, ma è una prosperità che si dona agli altri. Infatti è scritto che Giovanni dirà a Gaio farai bene, tu, tu che hai l'anima che prospera, farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio. Essi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio perché sono partiti per amore di Cristo, senza prendere alcunché dai pagani. Ora dobbiamo accogliere tali persone per essere cooperatori della verità. Giovanni dice a Gaio, c'è un team, una squadra di fratelli che stanno partendo per un'opera evangelistica. Gaio, prenditi cura, provvedi alle loro necessità. Perché un'anima che gode di buona salute non può che distribuire, provvedere agli altri ciò di cui hanno bisogno. Che bello, fratelli, che bello realizzare la presenza di Gesù. Che bello avere l'anima che gode di buona salute. Ma che bello, fratelli, vedere i credenti che si dispongono a dividere la prosperità che hanno con quanti si trovano nel bisogno. Che bello distribuire i propri beni spirituali una parola di sapienza, una preghiera, un versetto biblico, un incoraggiamento. Questo è provvedere alle necessità dei santi. Ci vogliamo aiutare gli uni e gli altri per incitarci, incoraggiarci a fare sul serio col Signore nell'attesa del suo ritorno. Chigniamo il capo. Preghiamo insieme. Gloria al Signore. Mentre ogni occhio è chiuso, ogni capo è chino. Questa sera, fratelli e sorelle, come stiamo? Sta prosperando la nostra anima? Sta prosperando la nostra parte spirituale? Oppure sta morendo? Mentre ogni occhio è chiuso, ogni capo è chino. Siamo davanti al dottore questa sera, a colui che conosce il cuore e ti dice, figlia mia, figlio mio, come stai? A che punto è lo stato di salute del tuo cuore, della tua anima? Io prego che in ogni cosa tu prosperi e stia in salute come prospera l'anima tua. sai, fratello, sai, sorella, in quel problema che tu stai attraversando hai mai pensato che quella vicenda che ha coinvolto la tua famiglia, quel problema di natura materiale o fisico può essere risolto ripristinando la nostra comunione con Dio? in altre parole ci credi questa sera che se la tua anima prospera tutto il resto prenderai il verso giusto perché quello che conta è l'anima quello che conta è avere Gesù nel cuore quello che conta è avere una fede viva e sentirsi spiritualmente potenziati dal Signore quello che conta è avere l'anima ristorata l'anima al sicuro l'anima tra le mani del Signore fratello, sorella se la tua anima è nelle mani di Dio tutto il resto sarà benedetto dal Signore in vano ti affatichi dice il Signore in vano vai tardi a letto se non sono io che guardo la tua casa tu pensa all'anima pensa a ripristinare la tua comunione con me dice il Signore e io provvederò al tuo bisogno la prosperità è il risultato della comunione la prosperità ha un effetto straordinario si spande come profumo la prosperità agisce si muove condivide dona distribuisce chi ha l'animo florido prospero è anche un credente forte nel Signore carissimo non imitare il male ma il bene chi fa il bene è da Dio chi fa il male non ha visto Dio sorelle, fratelli voglio dirvi una cosa questa sera e poi pregheremo il Signore però è giusto che il Signore ce lo ricordi ogni nostro comportamento ogni nostra parola ogni nostro pensiero anche non visto dagli uomini ma visto da Dio se non onora il Signore noi abbiamo un'anima che sta morendo quel pensiero che abbiamo albergato quell'azione cattiva fatta di nascosto quella parola in più pronunciata che non dovevamo chi fa il male non ha visto Dio e non è una mia esagerazione è un versetto biblico chi fa il bene è da Dio voglio concludere ricordandovi a me e a voi che chi prospera nel suo cuore fa il bene il male non è contemplato non è neanche pensato tanto prospera l'anima che il frutto naturale è la bontà è la giustizia è la rettitudine questa sera ognuno di noi davanti alla parola di Dio vogliamo prendere coscienza vogliamo risvegliarci vogliamo chiedere perdono se è necessario vogliamo chiedere perdono se è necessario io lo voglio dire perdonami Signore perdonami Signore perché davanti alla Tua parola io sono venuto meno e questa sera il sangue di Gesù ci purifica perché ognuno di noi possa essere un credente che possa prosperare nelle vie del Signore alziamoci tutti in piedi cantiamo questo cantico e adoreremo il Signore di pari sentimenti gloria a Dio grazie Signore alleluia alleluia gloria a Dio gloria a te grazie a Dio grazie gloria a Dio grazie 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 a Dio La tua salvezza e metti dentro di me uno spirito nuovo. Tutti insieme, oh Dio, creme un cuore puro. Oh Dio, creme un cuore puro. E metti dentro di me uno spirito nuovo. Gloria a Dio! Oh Dio, crea in me un cuore puro. E metti dentro di me uno spirito nuovo. Non ricercami dalla tua presenza. Prendici la gioia della salvezza. E metti dentro di me uno spirito nuovo. E metti dentro di me uno spirito nuovo. Alleluia! Signore, noi ti ringraziamo in questa sera. Perché ci hai ricordato, Signore, di badare alla parte interiore del nostro essere. Ad attenzionare, Signore, la parte spirituale dell'essere umano. Siamo sempre così portati, Signore, minuziosamente a contemplare la parte materiale. Siamo così attenti al nostro stato fisico. Alle volte a discapito della parte più importante, Signore. Ma questa sera ti chiediamo perdono. E ti chiediamo insieme di pari sentimento. Signore, benedisci la nostra anima. Dacci, Signore, un aspetto spirituale florido. Aiutaci ad essere una chiesa che goda di buona salute spirituale. Aiutaci, Signore. Aiutaci nel nome di Gesù a testimoniare della grazia di Dio con un'anima ripiena di Spirito Santo. Ti preghiamo di benedire ciascuno di noi. Aiutaci, Signore, sostienici con lo Spirito Santo e dalla potente Tua parola. Perché possiamo ogni giorno attenzionare il nostro spirito per raggiungere livelli di qualità. Livelli che ti piacciono, Signore. Ti preghiamo di pari sentimento questa sera. E ti chiediamo d'un sol cuore. Signore, aiutaci a non abbassare il livello di spiritualità. Signore, aiutaci a non raggiungere gli standard del mondo. Signore, aiutaci a non essere come il mondo. Signore, aiutaci a distinguerci questa sera. Aiutaci, Signore, ad alzare il livello spirituale. Signore, aiutaci ad essere una Chiesa potente che possa testimoniare della grazia di Dio lì dove tu ci hai collocati. Benedici ogni mio fratello, ogni mia sorella, ogni famiglia qui rappresentata. Tienici pronti per il tuo ritorno, Signore. Facci godere di buona salute spirituale in costante comunione con te per essere di beneficio al popolo di Dio e ai perduti che ancora non ti conoscono. Rimani con noi, accompagnaci alle nostre case e dona l'amore di Dio, la grazia di Gesù. I doni dello Spirito Santo siano con noi, con le nostre famiglie, con tutto il tuo popolo, benedetto in eterno. Gτο l'impost. Grazie a tutti.